Sto prendendo un piccolo ski lift così lo filmo, piccolo che dura due secondi Ok Che ski lift corto, non so nemmeno se c'è un nome, si un nome ce l'ha scritto ma non l'ho letto bene Mi dice a seguire un po' un descevres che adesso filmiamo Questo è come, non lì c'è un tappetino, però questo è come sostituire praticamente la lunghezza di un tappetino La lunghezza che di solito davano via nani di carezza Con uno ski lift Sarà un doppelmire del 2008, quegli anni lì, sembra un doppelmire abbastanza recente Uno, un sostegno Scommettiamo che il video non arriva nemmeno a un minuto Questo è l'unico ski lift in cui si sbarca alla puleggia Si sgantina alla puleggia, al posto di impianto Grazie Grazie Grazie